E passiamo al comprensorio Santa Marinella dopo 5 mesi dall'elezione del sindaco Roberto Bacheca da stamattina la nuova giunta di Santa Marinella il quinto assessore. Si tratta della dottoressa Marcella Alfè nata Napoli nell'80 laureata in giurisprudenza che avrà alcuni incarichi tra cui le politiche dell'immigrazione e dell'integrazione. Il controllo di gestione, gli accordi di programma, la mobilità e il recupero dell'agricoltura locale sostenibile. Si completa così la giunta comunale dopo la presenza degli assessori Raffaele Bronzoline, i lavori pubblici Rosanna Cucciniello, la pubblica istruzione e i servizi sociali, Roberto Marongiu, il centro storico, il castello di Santa Seviera e le attività produttive, il vice sindaco Carlo Pisacane con Delegal Marketing. Sono felice della stima espressa nei miei confronti dal movimento di idee. L'ancora Santa Marinella Futura ha dichiarato il mio assessore che mi ha proposto a tale incarico e per la fiducia che il sindaco Bacheca ha voluto accordarmi con la nomina di assessore in settori di primaria importanza. Sono consapevole della responsabilità e del peso del ruolo politico che vado a ricoprire, aggiunge la Alfe, e dell'opportunità di vivere un'esperienza che mi porterà a contatto con i cittadini, adoperandomi al massimo per dare le adeguate risposte. Metto subito a disposizione del sindaco e dell'intera amministrazione per dare un contributo fattivo al miglioramento della qualità della vita a Santa Marinella. Una nuova deratizzazione in corso all'asilo nido, il Delfino Curioso di Parco Leonardo a Fiumicino, ancora alle prese con il rinverimento di escrementi di top. Dopo un primo caso nei giorni scorsi, i piccoli alunni sono stati trasferiti in altre scuole. È la seconda volta in pochi giorni, afferma l'assessore alla scuola Paolo Callicchio che ci attiviamo immediatamente con l'intervento della protezione civile per la deratizzazione dopo la segnalazione della presenza di escrementi di piccoli eroditori nel plesso scolastico. Il Delfino Curioso invia del Perugino a Parco Leonardo. Ci siamo preoccupati di garantire la sicurezza dei bambini spostandoli nei plessi l'anatroccolo, il girasole, l'allegro ranocchio, tutti nelle zone di Fiumicino e Isola Sacra, finché non sarà fatta una bonifica completa dell'area circostante e la scuola. Purtroppo ci continueremo a trovare di fronte alla presenza di topi nei pressi dei terreni incolti e dei canali di bonifica nei paraggi. Per questo contatteremo personalmente il Consorzio di Bonifica e il Consorzio Spiges per un'attenta verifica dello stato dei fatti e per la programmazione di una pulizia straordinaria dei luoghi prospicenti in nido. Il ponte sul fiume Mignone si farà. Parola della SAT, lavoro impegnata nella realizzazione dell'autostrada tirrenica. Soddisfatto il sindaco di Tarquigna, dopo numerosi solleciti e continui contatti con SAT, il primo cittadino ha infatti ottenuto la definitiva conferma che l'importante infrastruttura sarà realizzata in tempi e modi previsti a garantire un'adeguata viabilità alternativa nella zona. SAT in ottemperanza alla delibera Cipe ha presentato il progetto definitivo per il collegamento tra i fondi del tratto 8-6-8-900-11-200, dichiara il sindaco. L'opera è considerata strategica e di preminente interesse nazionale e sarà realizzata senza se e senza ma, ha affermato lo stesso. Che SAT deve realizzare un'ottima rete viaria secondaria che per non ledere il diritto alla mobilità di tutti i cittadini tarquinesi. Ci stiamo riuscendo in silenzio e senza ricercare visibilità. La mia attenzione, quella dell'amministrazione, continuerà a rimanere alta durante tutti i lavori. L'autostrada ha sì una valenza fondamentale per il territorio che però non può prescindere da un sistema di strade alternative capillare sicuro. Il consigliere comunale Angelo Centini è stato eletto per acclamazione all'unanimità il nuovo segretario del Partito Democratico di Tarquignà, Circolo Domenico Emanuelli. Succede ad Arianna Centini. La votazione si è svolta durante il congresso che ha avuto luogo sabato 2 novembre. È composto anche il direttivo che sarà formato di 16 persone, tra cui molte donne e tanti giovani. Il numero dei serati è raddoppiato rispetto al 2012. Ringrazio tutti gli esponenti del partito che mi hanno dato questa fiducia incondizionata. Dichiaro lo stesso segretario Centini. Essere eletto in questo modo è motivo di grande soddisfazione e di grande responsabilità. Passiamo alla Dispol. Il consiglio comunale, il 6 e 7 novembre, con inizio alle 21, presso l'aula consigliare Fausto Ceraolo. Tra i punti all'ordine del giorno ci sono l'approvazione del regolamento per l'esercizio delle attività educative per la prima infanzia e l'infanzia, il progetto preliminare porta di accesso al complesso monumentale di Monteroni, la farmacia comunale, cessione della titolarità, atto di indirizzo. L'approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2013-2015, la verifica della qualità e quantità di aree fabbricate da destinarsi alla residenza, alle attività produttive, terziari e esercizio finanziario 2013. L'approvazione dei regolamenti per l'assegnazione in proprietà delle aree di insegnamento di attività piccola, industria, artigianato. Venerdì 8 novembre alle 11, presso l'aula consigliare Fausto Ceraolo, si svolgerà la presentazione del progetto di alta formazione professionale atlante e promosso dall'assessore alla pubblica istruzione Roberto Ussia, dal delegato alle politiche giovanelli Stefano Fierli, in collaborazione con l'istituto atlante patrocinata dal comune di Ladisponi. Iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi, sia diplomati, maturandi che studenti universitari, offre corsi gratuiti di formazione professionale in comunicazione e giornalismo, gestione aziendale, business plan, diritto societario base e in ultimo in materia di sicurezza sul lavoro il decreto legislativo 81 del 2008. L'obiettivo è quello di accrescere l'offerta formativa dei giovani residenti nel territorio, in particolare di promuovere percorsi finalizzati all'acquisizione di competenze e professionalità spendibili nel mercato del lavoro. Tutti i corsi tenuti da docenti qualificati e professionisti del settore ed esperti della materia, comprensivi di frequenza in aula, materiale didattico e attestazione finale. Si svolgeranno dal venerdì 15 novembre fino al febbraio 2013 presso i locali dell'istituto atlante. Ma ora diamo spazio a un piccolo break di pubblicità, a seguire la nostra consuetta pagina dello sport. Grazie a tutti.